Il popolo ha assicurato alle carceri di Palazzo Gallo. Le nostre tre grazie, le ragazze che avevano detto in testa, la reticudine e la libertà. E nuovamente per salvarsi fu costretto a darsi alla fuga. La notizia rege giumidanti i tesini, che si riunirono in gruppo, dandosi alla ricerca del tiranno sconfitto e fuggiasco. Non lo ritracciarono, anzi, vennero a sapore da fonti, a saperi, da fonti corretti. Calvarmi! Calvarmi! Anzi, vennero a calvarmi! Quel nervoso vedo in giro perché è il furro delle unge e delle mani! E' vennero a cuore del piede! E' un momento! Adesso la secche è nel conto! La secche è nel conto! Poi passassi a fare un'aznata del fuga, mia noccia fa tanta gara, ma tanta potante potante che la più dura era come l'olio! mi sono scampato e mi sono ficato del chato del porco